SONO TORNATA Sei troppo divertente, Ava! Ah sì? Vuoi vedere cos'altro so fare? Troppo divertente! Blower's Magic Tears! Forza, prendi l'essenza dei fiori! Zucchero filato alla fregola Creerò un profumo speciale con questo E se organizzassimo un mercatino speciale per i bebè? Vado a preparare! Io farò un'insegna piena di fiori! E io li farò divertire! Che buon profumo! Ciao, Rose! Cosa stai facendo? Ciao! Sto preparando un profumo molto speciale! Un profumo speciale? Sì, sì, vedrai! Ti aiuto! Ehi, anche noi! No, 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 no! Andate ad aiutare gli altri! Questa cosa devo farla da sola! Dove ero rimasta? Ah sì! Un po' di essenza di melone Margherita sorridente Che buon profumo! Eh sì, certo! Zucchero filato alla fragola Questo è un profumo speciale! Accresce le abilità! Svalordirò tutti! Oh, è bellissimo! È bellissimo! Mila è una vera tuttofare! Sofia, è così ordinata! Oh! Eh! Eava, sei troppo divertente! Eccomi qui! Il nuovo profumo speciale! Oltre ad avere un ottimo profumo Accresce le abilità! Lo voglio! Lo voglio! Lo voglio anche io! Ops, l'ho finito! Ce n'era proprio poco! Ma tranquille! Ne farò ancora! Ehi, attenta, Rose! Wow, che bel mercato! Ciao, bebè! Rose ha creato un profumo speciale che accresce le abilità! Ora è andata a farne ancora un po'! Che bello! Lo vogliamo anche noi! Oh! Che strano! Mila è super impacciata! Adoro fare disordine! Chissà cosa le succede ma è meglio se ce ne andiamo! No, 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 no! Non andate! Ava è super divertente! Ava, è tutto ok? Bebè! Ho bisogno di aiuto! Ho sbagliato! Sembra che l'effetto del profumo sia l'esatto opposto! Non sono più la migliore a creare profumi! Ora capisco! Ecco perché Ava, Mila e Sofia si comportano così! Disordine! Disordine! Quindi, che cosa vuoi fare? Beh, non ne ho idea! Ti aiutiamo noi! No, 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 no! Io sono l'esperta di profumi! Sistemerò tutto! Rose! Ok, ok! Tranquilla! È solo scienza! Ma... ma... È molto semplice! Si chiamerà frutto della passione! Ah! Brucia! Brucia! Acqua! Ok! Questo no! Allora, fiori di melone! Ups! Questo funzionerà! Profumo di principessa! Eh? Beh, sì! Principe saranno occhio! Vedete, per... Fare profumi non basta... Mischiare gli aromi! Ogni bebè ha il proprio... Ma ora ho perso tutta l'ispirazione! Non fare così! Forse non avremo il tuo talento! Non saremo le migliori creatrici di profumi! Ma non lasceremo mai e poi mai un amico nei guai! Rose! Quali ingredienti useresti per accrescere le abilità? Beh, aroma di lavanda, vite e rose! Sembra che manchi qualcosa! Ma cosa? Ah! Ci sono! Zucchero filato alla fragola! Ah! Sono tornata il genio dei profumi di prima! Prepariamone ancora per Mila, Ava e Sofia! Sì! Ma che disastro! Cosa facciamo ora? Non si! Tranquilli! Abbiamo la soluzione! Cos'è successo? Che disordine! Sistemerò in un valeno! Ehi, bebè! Questi sono dei profumi per voi! Siete degli amici fantastici! Grazie, Rose! Ehi, guardatemi! Ah! Ehi, guardatemi! Eh! Sì! Grazie a tutti.